Siamo veramente contenti, anche un po' disorientati. Noi siamo un'associazione culturale che è nata nel 2009 al Caffè Centrale di Fano e oggi abbiamo questo grandissimo onore di essere presenti qui al pomeriggio della giornata inaugurale di Pesaro, capitale italiana della cultura e questa è davvero una cosa straordinaria. Noi che appunto in qualche modo operiamo attraverso il Festival della fotografia di ricerca a Fano, siamo qui a Pesaro per dare il nostro omaggio a questa città speciale e quindi attraverso la visione dell'oggetto siamo riusciti a raccontarle in una maniera così meno canonica e mettendo in rilevanza quelle caratteristiche che la città possiede, ovvero l'artigianato, il design, installazioni molto belle, museali eccetera. Tutte queste cose ci hanno permesso di realizzare questo progetto che si potrà vedere fino al 18 febbraio 2024 dal venerdì alla domenica dalle 17.30 alle 19.30.